Cantare voglio la balle resistente Allora, sono qui perché sono notato a sostegno delle persone che comunque sono contrarie a un'ulteriore opera inutile e avevo conosciuto il movimento Notav attraverso le manifestazioni, attraverso l'alta felicità e niente, avevo del tempo per poter venire su un po' e quindi sono venuta su e se mi rilisci appunto preside dei murini mi viene in mente accoglienza, belle persone, collaborazione, ideali e valori e quindi niente, è un bel posto Grazie Ciao, sono Matilde e vengo dalla bassa Bergamasca Penso che sia anche molto importante dare un supporto per questa causa anche appunto da altre regioni, da altri paesi Penso che sia una cosa molto positiva Questi dei murini sono appena arrivata però appunto mi sembra uno spazio gestito comunque in una maniera molto condivisa appunto, molto particolare a livello che si fanno lavori per riappurarsi e sistemare questi spazi che comunque sono bellissimi e che è importante appunto mantenere così Ciao, sono Joela e vengo dalla provincia di Milano Sono qui perché ritengo che la lotta portata avanti dal movimento Notav sia un importante esempio di lotta contro una società che non sento mia e che ci sfrutta e ci avvelena e penso che sia importante per tutti venire qui in valle anche se magari non viviamo il territorio e non siamo qui per sostenere un movimento e un modello alternativo di società e di vita Grazie a tutti